Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con i giornali in edicola alla nostra rassegna stampa. Scorriamo insieme i titoli di oggi, venerdì 12 gennaio. La politica in primo piano con le decisioni sulla riforma della giustizia, in particolare le nuove norme sulle intercettazioni telefoniche, ma anche le scelte sulle candidature alle regionali e alle europee e uno spazio anche naturalmente al cosiddetto terzo mandato per i governatori. Ma c'è tanta cronaca internazionale, soprattutto con l'apertura del processo per crimini di guerra nei confronti di Israele al Tribunale Internazionale dell'AIA in Olanda, ma nella notte, non lo troviamo sui giornali, c'è stato un attacco importante congiunto tra Stati Uniti e Inghilterra nei confronti dei ribelli dello Iemene in Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte militare. E poi spazio purtroppo alla cronaca interna, la cronaca nera, con ancora nuovi casi di femminicidio. Ma andiamo subito sul Corriere della Sera che titola Regionali, nessun accordo, incontro a vuoto tra i leader del centro-destra, ha premierato, cambia la riforma. Intanto il commissario europeo Gentiloni dice non mi candido alle europee, il richiamo di Bruxelles, sull'abolizione dell'abuso d'ufficio. E leggiamo il richiamo. Situazione ancora in alto mare per le candidature alle prossime elezioni. Il vertice dei leader del centro-destra non è stato risolutivo. Intanto la Lega deposita la proposta di leggere per estendere da 2 a 3 il numero dei mandati consecutivi per i presidenti delle regioni. Sull'altro fronte il commissario europeo Paolo Gentiloni ha annunciato che non parteciperà alla corsa per Bruxelles. E sempre dai palazzi dell'Unione europea arrivano i dubbi sull'abolizione dell'abuso d'ufficio, mentre cambia la riforma sul premierato. E a proposito sempre della pagina politica c'è anche il Partito Democratico e le scelte sulle liste. La Schlein è pronta invece a correre le mosse della segretaria. Di spalla troviamo, sulla parte destra del giornale, troviamo Trento, la uccide, poi si impicca, avevano tre bambini, si erano lasciati. Ha ucciso la compagna e si è tolto la vita, l'ha abbracciata, quindi l'ha colpita più volte con un coltello, mentre i tre figli, uno di cinque anni e due di nove, erano a scuola. Poi si è impiccato alla trave di un casolare, il delitto a Balfloriana, in Trentino. Igor, 45 anni, ed Esther, 37, si erano lasciati e lui viveva già in un'altra casa. E a proposito invece delle questioni internazionali, Israele accusato di genocidio, raid degli Stati Uniti nello Yemen, Netanyahu, mondo capovolto. Francesco Battistini racconta. Si allarga il conflitto in Medio Oriente, nella notte, raid anglo-americano contro le postazioni degli Uti nello Yemen, iniziato alla Corte Internazionale dell'AIA il processo per genocidio contro Israele. L'attacco di Hamas non giustifica fame e distruzione. L'accusa mossa dal Sudafrica, duro il commento del premier israeliano Netanyahu. Stiamo assistendo ad un mondo capovolto. E intanto invece sul fronte ucraino, l'America, finiti i fondi, stop agli aiuti per Kiev, l'annuncio della Casa Bianca, l'assistenza degli Stati Uniti all'Ucraina si è interrotta. Sono finiti i fondi stanziati dal Congresso, in attesa dell'esito dei nuovi negoziati per rifinanziare il pacchetto. E poi vedete una finestra sul calcio, non quello giocato purtroppo, ma c'è il dramma di Ericsson, ex allenatore della Lazio campione d'Italia negli anni 90. Mi resta un anno di vita. L'allenatore svedese rivela ho un tumore e non è operabile. Annuncio shock di Sven Goran Ericsson. Ho un tumore, non è operabile. Mi resta forse un anno di vita. L'ex allenatore tra le altre di Lazio e Roma ha 75 anni. Sono devastata il commento dell'ex compagna Nancy Dell'Olio. Passiamo alla Repubblica. La Repubblica che invece titola sulla questione del Medio Oriente Gaza, scontro sul genocidio. Il Sudafrica accusa Israele di fronte alla Corte di Giustizia ONU dell'AIA, stragi indiscriminate di civili. Chieste ai giudici misure urgenti. Cessate il fuoco e aiuti ai palestinesi. Netanyahu dice è il mondo alla rovescia. Intanto Mar Rosso, Stati Uniti e Inghilterra bombardano nella notte gli uti. E leggiamo anche qui il richiamo. Israele ha commesso, sta commettendo e vuol continuare a commettere atti di genocidio contro i palestinesi di Gaza. E l'accusa pronunciata dal Sudafrica davanti alla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA. Ieri la prima delle due udienze e oggi tocca a Israele per stabilire l'ammissibilità del caso che Pretoria ha riassunto in un dossier di 84 pagine. Israele è accusato di genocidio mentre combatte contro il genocidio. Il mondo è sottosopra, ha detto ieri il premier Benjamin Netanyahu. Intanto nel Mar Rosso, Washington e Londra hanno lanciato attacchi contro gli uti. E vedete sulla parte destra della prima pagina di Repubblica troviamo anche le questioni della politica. La destra si spacca sulle candidature europee e regionali. Il caso Sardegna e il debole Salvini è il fondo di Stefano Folli. E poi c'è anche la vicenda dell'ex Silva di Taranto che diventa di Stato. Arcelor Mittal è fuori. A centropagine invece si parla del nuovo esecutivo francese con la svolta a destra. A tal nomina il suo ex, il suo ex compagno. Il governo intanto, il governo italiano, non arretra. Giusto verificare, non basta dirsi vittime, i mancati risarcimento per gli eccidi dei nazisti. E passiamo alla stampa. Il quotidiano di Torino che invece apre con il maxi concordato un altro regalo agli evasori. Per le partite IVA tasse ferme e niente controlli per due anni. Bruxelles intanto boccia il governo sul mess e abuso d'ufficio. Sono tutte vicende legate alla politica. Ma intanto Stati Uniti e Regno Unito attacco agli uti. Anche le navi nell'Europa nel Mar Rosso per evitare l'escalation. La Corte dell'AIA processa Israele. Cominciano i raid aerei di Washington e Londra contro i terroristi nello Yemen. Esplosioni a Sana'a e nei porti. La prima giornata di udienza dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA si è conclusa dopo circa tre ore e mezza. Gaza è diventata un luogo di morte e disperazione, ha affermato l'avvocato Niederlingen entrando nel dettaglio dei numeri. E poi ci sono una serie di approfondimenti con un'intervista al giudice Arbia, le colpe del governo Netanyahu, quel traffico di reliquie tra Novare e Cremlino, Netflix cancella Fauda, ultima ferita alla libertà, Gratteri, il narco golpe e i legami con l'Italia. A centro pagina Taylor Shift, l'anti-Trump, la pop star nel mirino del Neocon, una spia che manipola il voto. E passiamo al giornale dei Vescovi italiani, l'avvenire. Israele alla sbarra. Il Sudafrica accusa Gerusalemme di genocidio dei palestinesi di fronte alla Corte dell'AIA. La replica del Premier Netanyahu, noi le vittime dei crimini contro l'umanità di Hamas. Lo Stato, nato in seguito all'olocausto, chiamato a rispondere della condotta della guerra a Gaza. Leggiamo allora nello scavo che scrive. Il Tribunale delle Nazioni Unite è chiamato a decidere se nell'azione militare nella striscia di Gaza si ravvisino gli estremi del genocidio. L'accusa di Pretoria, che è la capitale del Sudafrica, è contenuta nelle 84 pagine di requisitoria che denuncia l'uccisione dei civili a Gaza, il causare loro gravi danni fisici e mentali e l'imposizione di condizioni di vita intesi a provocare la loro eliminazione fisica. Oggi tocca alla difesa israeliana. Dimostreremo l'assurdità di simili insinuazioni. L'ira del capo del governo. Stiamo vedendo un mondo alla rovescia. Israele accusata di genocidio mentre combatte il genocidio. Tensione fuori dal Palais de la Paix per i giudici. Sarà molto difficile dissipare i dubbi di natura tecnica riguardo alla configurazione del reato di genocidio. Il verdetto potrebbe arrivare fra molti mesi. Intanto c'è anche un caso. L'Organizzazione Mondiale della Sanità per il Covid ha 7 milioni di morti, ma forse sono stati il triplo. I morti da Covid-19 nel mondo hanno superato i 7 milioni secondo i dati dell'OMS. Ma una delle più alte dirigenti della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, Maria von der Kirchhoff, sui social network ammette le cifre vere. Sono sottostimate. Il numero delle vittime potrebbe essere tre volte maggiore. Dati devastanti. La pandemia è ancora una minaccia. Intanto negli ospedali italiani in queste settimane prevangono i ricoveri per influenza. E poi raggiungibili gli obiettivi di COP28. Boom di energia da fonti rinnovabili. La transizione energetica viaggia ad un ritmo sostenuto ma non ha ancora raggiunto la massima velocità. Nel 2023 la produzione di energia pulita è cresciuta del 50% in più dell'anno precedente, raggiungendo quasi 510 gigawatt. A dirlo è l'AIE, l'Agenzia Internazionale per l'Energia, fondata dall'Ocse, nell'ultimo rapporto annuale sulle rinnovabili. A trainare il settore è stato il solare fotovoltaico. La crescita maggiore si è verificata in Cina ma anche Europa, Stati Uniti e Brasile hanno raggiunto massimi storici. E ancora intercettazioni da omettere i nomi di chi non è indagato. Ancora attenzione sulle candidature e si lima la proposta del premierato. La riforma della giustizia targata centrodestra prende corpo. Dopo l'abrogazione dell'abuso d'ufficio la commissione al Senato vota una stretta alle intercettazioni, escludendo la trascrizione dei dati di soggetti diversi dalle parti. Passa anche il test attitudinale obbligatorio per le toghe su cui si era detto contrario il ministro Nordio. Insorgono le opposizioni. Il PD. L'abuso va solo riformato. Cerca di ricucire con i suoi sindaci che esultano per l'abrogazione. Intervista al senatore dei 5 Stelle ed ex PM antimafia Scarpinato. Procedono spediti verso un diritto penale di casta. A Palazzo Chigi si vedono Meloni, Salvini e Tajani. Si tratta ancora sulle regionali e sul premierato. Si punta ad affrontare le criticità. E passiamo al sole 24 ore. Il giornale di Confindustria che si occupa dei temi di economia, non prima però di aver dato un'occhiata a quel che avviene nel processo all'AIA. Ma il titolo principale riguarda l'export di auto. Cina leader con 30 milioni. A fine 2023 l'auto cinese supera se stessa con un bilancio stupefacente. Il record da 30,16 milioni secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers pubblicati ieri. Le conseguenie, comprese quelli ai concessionari, sono saliti a 30 milioni contro i 27 milioni del 2022. Entrambi i dati hanno superato i precedenti record datati 2017. Le esportazioni hanno giocato un ruolo di primo piano. Sono aumentate del 58% a 4,91 milioni di unità, confermando il sorpasso sul Giappone, fermo a 4,3 milioni di unità. In particolare, grazie all'aumento dell'esportazione, veicoli elettrici inclusi e a una vera e propria colonizzazione in Russia, andando a colmare il vuoto creato dall'uscita di scena dei produttori occidentali, in seguito alla pressione di Mosca nei confronti dell'Ucraina. L'auto cinese, segnalano gli analisti, ora sta conquistando il mercato europeo grazie al fattore prezzo e al buon rapporto tra qualità e prestazioni. E poi, industria, produzione in caduta a novembre, flessione dell'1,5%. Questa è una congiuntura Istat, una congiuntura appunto valutata dall'Istat a novembre 2023. L'indice della produzione industriale cede l'1,5% rispetto ad ottobre. Lo stima l'Istat, secondo cui l'indice grezzo, segna un meno 3% su anno. Cali congiunturali in tutti i comparti. 0,2% ai beni strumentali, meno 1,8% gli intermedi e quelli di consumo, meno 4% l'energia. E passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, il primo dei due giornali di Puglia e Basilicata. Ilva l'ha svolta, il titolo principale, il governo ha virato sulla nazionalizzazione. Dopo la rottura con Arcelor Mittal tornerà pubblica la gestione dell'acciaieria di Taranto. E poi vedete il cancro di Ericsson, le malattie condivise. E poi si parla di vicende politiche e potenza. Renzi va a processo, diffamò un pubblico ministero. Mentre Petruzzelli, che è un assessore della Giunta Comunale di Bari, scuote il PD. Regionali, destra divisa. E passiamo all'altro giornale di Puglia e Basilicata, che è l'edicola del Sud. Il titolo principale è ancora sull'ex Ilva. Una settimana per separarsi da Arcelor Mittal. Legali al lavoro per evitare un lungo contenzioso. Il ministro Urso. La colpa è di Conte. Ma troviamo a centropagina altre due notizie. La svolta per i governatori. Blitz per il terzo mandato. La Lega spiazza gli alleati e serve l'assist a Emiliano. In realtà la battaglia della Lega è per Zaia, indirettamente per De Luca, governatore della Campania. E in questa vicenda si sta incuniando. Anche la possibile terza candidatura del governatore di Puglia, che ha già assolto due mandati e si parla di Emiliano. E poi Bari verso le comunali. Petruzzelli corre da sindaco, ma spacca il centrosinistra. De Simone convoca i DEM. L'assessore allo sporto scuote il partito democratico. E passiamo all'arresto del Carlino, il giornale del gruppo quotidiano nazionale. Questa è l'edizione nazionale che titola Elezioni, maggioranza verso l'accordo. Summit tra Meloni, Salvini e Tajani. Lega pronta a rinunciare a Solinas in Sardegna se la Premier dà l'ok al terzo mandato per le regioni. Intervista a Malanna di Fratelli d'Italia. Il voto non ci dividerà. DEM spaccati sull'Ucraina. Intervista ad Alfieri, partito democratico. Armi a Kiev, ma si lavori per la pace. E poi a centropagina questa vicenda drammatica. L'ennesimo femminicidio uccisa dal marito. Restano tre orfani. Il compagno e padre dei suoi figli l'accoltella e poi si impicca. Si chiamava Esther Palmieri, 37 anni. L'ultima vittima di femminicidio è morta in casa, dissanguata, con un fendente alla gola, piantato da Igor Moser, 45 anni, boscaiolo, compagno da cui si era separata. Ma lui non lo accettava. La tragedia in Val di Fiemme, in provincia di Trento, non è finita. L'uomo poi si è ucciso impiccandosi. La coppia aveva tre figli di 10, 8 e 5 anni che erano a scuola al momento del delitto. E passiamo al gruppo dei giornali della provincia, cominciando con Sondrio. Il titolo principale, troppi inerti nell'Adda, è alto rischio che esca. Isole di materiale, nessun prelievo, l'allarme di due tecnici della Cossi. Allarme inerti nell'Adda, la segnalazione arriva da Matteo Bombardieri, direttore tecnico dei cantieri locali dell'impianto di produzione asfalto di Cossi Costruzioni, e da Tommaso Gelfa, direttore tecnico di Cossi Costruzioni, che monitorano tutti i giorni le isole di inerti che si stanno formando nell'Adda. Se andiamo ad analizzare lo stato dell'alveo del fiume, partendo dall'inizio alla fine del nostro silos e in concomitanza dell'impianto a Caiolo, si vede che si sono formati accumuli di materiale all'interno del fiume a causa della percolazione delle acque, spiega Bombardieri, dove l'Adda a pendenza maggiore il materiale solido viene eroso e viene trasportato a valle, andando a depositarsi dove è più pianeggiante e così si formano le isole che nel lungo periodo vanno a deformare l'asse principale del fiume, erodendone le sponde. La soluzione? Eccetera, eccetera. E poi la provincia di Lecco, in questo caso linea Lecco-Bergamo, adesso tre anni di disagi a Ponte San Pietro, i treni si fermeranno e bisognerà viaggiare in bus. Fra poco più di tre settimane raggiungere Bergamo direttamente in treno non sarà più possibile. Arrivati alla stazione di Ponte San Pietro i viaggiatori della Lecco-Bergamo dovranno scendere e salire su un bus per proseguire il viaggio e arrivare a destinazione. E passiamo a Como, ancora sui giornali della provincia. Como è la befa dello stadio, odissea per mille posti in più, carte in ritardo, timbri spariti, un faro troppo alto e i tifosi restano fuori. Si parla di calcio, naturalmente sta diventando quasi un paradosso la questione del mini ampliamento dello stadio Sinigaglia, quei mille posti in più nella curva dei tifosi in casa in grado di portare la capienza complessiva a 7500 spettatori. Già perché per un intervento così minimale si sta attendendo ormai da mesi tra carte bollate in ritardo, documenti che non arrivano, timbri spariti, un faro troppo alto per il quale si prende il via libera dell'Enac. E ancora i soldi della bancarotta sul conto, condannato l'ex sindaco di San Siro. E passiamo all'eco di Bergamo. In questo caso il titolo principale riguarda il carcere a Bergamo, 562 detenuti, mai così tanti da sei anni. Sovraffollamento in via Gleno, la capienza regolamentare è di 319 unità. E ancora c'è una notizia di cronaca, scontro con un'auto, muore in moto. E passiamo al messaggero, il giornale della capitale, il giornale di Roma che titola Erba, si parla della strage. Sparite le registrazioni nella casa della strage, nell'appartamento c'erano le cimici del PM, i file però non si trovano. E ancora la politica, questa volta internazionale, il premier francese Attal sorprende il paese transalpino e nomina ministro il suo ex compagno. Nel nuovo governo, 11 di Casteri e poche donne. Alla Corte Internazionale, gli attacchi a Gaza, Israele alla Sbarra, Allaia, Genocidio, Tel Aviv replica e come il caso Dreyfus. Ma il titolo principale dedicato alla riforma delle intercettazioni, stretta sui nomi, c'è il sì all'emendamento di Forza Italia, sarà vietato trascrivere negli atti i dati dei soggetti non indagati, vertice sulle regionali, maggioranza verso l'accordo, Sardegna, a Fratelli d'Italia e via libera al terzo mandato. Sarebbe questo l'equilibrio raggiunto all'interno del centrodestra. Ma c'è anche un riferimento appunto alla vicenda dell'allenatore, ex allenatore di Roma e Lazio. Ericsson, mi resta un anno da vivere, annuncio shock dell'ex tecnico di Lazio e Roma o un grave tumore. E poi c'è una notizia che riguarda il personale dello Stato. Liquidazione agli statali, anticipo intorno tre mesi, in arrivo una legge. Il TFS, tempi più rapidi per la prima rata, versamento iniziale da 50 a 63 mila euro. Statali, una legge sul trattamento di fine mandato degli statali. Prima rata, entro tre mesi la proposta in discussione alla Camera. Oggi i dipendenti aspettano anche cinque anni. Resta il pagamento a tranche, ma quello iniziale salirà da 50 a 63 mila euro. La consulta aveva dichiarato eccessivi tempi di attesa, chiedendo al Governo e Parlamento di intervenire presto. E poi la vicenda di Arcelor Mittal dell'ex Silva, mossa del Governo, Arcelor Mittal fuori, soluzione entro il 17 gennaio. E poi la storia di quel femminicidio a coltella la ex e poi si impicca, lasciano tre figli, lei è morta, dissanguata. E passiamo al mattino, il giornale di Napoli, giornale della Campania. Patto per il terzo mandato, regionali, vertice nel centro-destra. La Sardegna, fratelli d'Italia, via libera, la norma pro Zaia e De Luca. Ci aggiungeremmo anche Emiliano della Puglia. Intercettazioni stretta sui nomi dei non indagati. L'Europa, sbagliato abolire l'abuso d'ufficio. E poi un'altra vicenda, quella dell'ira di Israele sotto accusa e un nuovo caso Dreyfus. Genocidio, la denuncia del Sudafrica all'AIA. Porte chiuse all'AIA davanti a 17 giudici della Corte internazionale di giustizia dell'ONU. L'atto d'accusa da parte del Sudafrica contro Israele che persegue a Gaza il genocidio dei palestinesi. Si tratta, ancora l'accusa, di un nuovo caso Dreyfus. E poi grave a tre mesi per la meningite, il giallo cocaina, Salerno, il primo test positivo alla droga. Poi negativi ulteriori esami indagano la procura. E ancora c'è anche uno spazio per il calciomercato, per il Napoli c'è Traorè mentre Samarzizio è in bilico. L'ex Sassuolo per Mazzarri sul tedesco è piombata la Juve. E ancora un'altra vicenda, quella dei tagli di Google, gli effetti nefasti dell'intelligenza artificiale. E passiamo all'altra voce dell'Italia, il Quotidiano del Sud, il giornale diretto da Roberto Napoletano che nel suo consueto editoriale di prima pagina titola Un sistema senza alternanza, dall'Ucraina all'Ilva. I costi che paga l'Italia per un'opposizione che non offre una proposta coerente. La fragilità ideologica della guida della Schleina del PD è figlia dell'ossessione del campo largo e paga il prezzo di non avere futuro perché mostra incapacità politica astenendosi su tutto. Quando la democrazia cristiana aveva il problema dell'alternanza perché il PC preservava il suo legame con l'Unione Sovietica e non poteva aspirare al governo di un paese dell'Alleanza Atlantica, Moro disse l'unica soluzione possibile è che la DC diventi opposizione di se stessa. Le correnti lo presero in parola. Oggi il moderatismo di Tajani che resta la posizione più lucida e l'estremismo leghista di Salvini che non aiuta sono le correnti democristiane dei nostri tempi. La Schlein segue l'esempio della Meloni con la sua opposizione ragionata al governo Draghi e riavrà un ruolo per il partito e per il paese. E poi ancora altri titoli. La credibilità di magistrati e giustizia adesso e ai minimi storici in Italia. Oggi la camorra è la mafia più social. Intervista a Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli. La credibilità della giustizia ai minimi storici. Non ha dubbi Nicola Gratteri, il super magistrato antimafia che da quasi 100 giorni è alla guida della procura di Napoli, la più grande d'Italia. Calabrese, originario di Gerrace, è uno dei bolghi più suggestivi della Locride a 65 anni e in magistratura dal 1986. È stato prima giudice al Tribunale di Locri, dove poi nel 91 è diventato sostituto procuratore per stesso incarico che è poi svolto dal 1996 a Reggio Calabria. E ancora ex Silva, intervento drastico e cambio di equipaggio, è rotta il ministro Urso al Senato. E poi c'è un intervento di Gaetano Manfredi, Governare insieme, il sindaco come collante tra cittadinanza e politica. Allora leggiamo. Il titolo della rubrica Governare insieme rappresenta un auspicio di condivisione. Invita a praticare, come sto cercando di fare da quando mi sono insediato come sindaco di Napoli, lo ricordiamo, una politica non incentrata esclusivamente sulla dimensione territoriale, ma finalizzata a costruire una rete a più livelli. Quando sono stato eletto sindaco di Napoli, ho immediatamente avvertito, insieme alla grande responsabilità che questo ruolo comporta, la crescente richiesta di cambiamento da parte di tutta la cittadinanza. La voglia di proiettare la città verso un futuro più sereno, più florido, con un sistema politico più sano e rappresentativo. La mia azione di governo si è mossa sin dal principio verso questo obiettivo. Garantire un apparato amministrativo solido, efficace e funzionale alla realizzazione delle istanze cittadine. Il problema è arrivare in fondo a queste strade percorse. Ed era l'ultimo argomento del quale ci siamo occupati nel corso di questa rassegna stampa che torna domani, stessa ora, stessa rete. Per il momento non andate via e restate con i nostri programmi.